I miracoli nello sport spesso coincidono con i sogni, che molto spesso rimangono tali, buoni per recriminare su stagioni nate male e finite peggio. E così l'Aquila Rugby, dopo la sconfitta a Sandonà, 33 a 7 per i cultori degli Ammanacchi, è tornata con i piedi sulla terra, dopo la vittoria con la Lazio, che aveva fatto sperare in una remota ipotesi di spareggio con il Piacenza, e a fare conti con una realtà che si chiama retrocessione in Serie A e un futuro pieno di incertezze. La squadra, tra le più giovani, se non la più giovane dell'eccellenza, andrà migliorata e puntellata per tornare immediatamente nell'elite della palla ovale tricolore. In società qualcuno dovrà assumersi le responsabilità per un fallimento tecnico e sportivo, che neanche l'arrivo del guru della mischia Massimo Cuttitta è riuscito a scongiurare. Perché le vittorie hanno sempre mille padri, mentre le sconfitte sono sempre frutto di agenti esterni, sfortuna, magari media, o tifosi che non vanno allo stadio, e sì che nonostante l'annata disastrosa di appassionati al fattori se ne sono visti eccome. Quindi meglio tirare una linea e ripartire, se c'è la voglia e la capacità, perché una città che ha nel DNA il rugby merita forse di tornare al più presto su palcoscenici di eccellenza. Per ora si pensi alla prossima stagione, quando si potrebbe configurare un clamoroso derby con la Gran Sasso Rugby. Ma bisognerà aspettare i calendari per saperlo. Perché questo ha sentenziato il campo, e il campo non mente mai.